ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale mario dedo siamo ancora nel periodo natalizio e dopo aver fatto l'albero di natale oggi faremo babbo natale andiamo a vedere subito i blocchi di costruzione utilizzeremo lana nera lana azzurra gialla rossa bianca e rosa poi utilizzeremo della terracotta bianca una porta di betulla questi naturalmente sono i materiali solo per la costruzione di babbo natale poi per le decorazioni finali utilizzeremo anche altri materiali ma partiamo subito con la nostra costruzione ragazzi faremo una costruzione strana di babbo natale ma fine video capirete il perché si trova in questa posizione e tutta la sua storia ok partiamo con la costruzione subito tre blocchi di lana rossa uno di lana nera giallo qua lasciamo lo spazio dovuto per la porta e un altro giallo la stessa cosa di qua quindi nero e 1 2 e 3 rosso facciamo un altro strato uguale al sopra ok nero e 3 rosso e qui ci piazziamo la porta sopra andiamo a chiudere tutto di nero adesso 3 strati di rosso adesso sui due lati andiamo a fare subito sopra la cinta 1 2 1 2 ci allontaniamo di 3 andiamo a fare la mano di babbo natale di qua utilizzando sempre la lana rossa e infine due blocchi di calcio di terracotta bianca scusate ok facciamo la stessa cosa dall'altro lato quindi subito dopo la cinta ci allontaniamo di tre blocchi 1 2 3 e poi i due che servono per fare la mano adesso partiamo con la barba quindi lana bianca ci mettiamo in corrispondenza della lana gialla e facciamo 1 2 3 blocchi poi sopra 1 2 3 4 e 5 e ancora sopra 7 quindi 1 2 3 4 5 6 e 7 facciamo la stessa cosa anche dall'altro lato adesso utilizzeremo la lana rossa per la bocca 1 2 e 3 e la terracotta bianca per il naso adesso andiamo a fare la faccia del nostro babbo natale qui andremo a fare i suoi occhi quindi da sopra al naso ci partiamo un blocco di lana azzurra e subito dopo di lana bianca facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte andiamo a chiudere tutto con la terracotta bianca e poi tutto intorno con la lana bianca che andremo a completare sia barba che capelli e poi andiamo a chiudere tutto con la terracotta bianca facciamo le patate manca un blocco qui a questo punto aggiungerei anche un altro blocco qui e qui adesso dobbiamo passare al cappello di papà natale quindi l'ana rossa alla mano ci facciamo un primo strato qui di chiusura e un altro subito dietro saliamo qui di un altro blocco e andiamo a fare adesso la punta ecco qui a voi il nostro babbo natale adesso andremo a completare la costruzione anche dietro andremo a costruire altri piccoli dettagli e ci vediamo poi sia per i saluti che per raccontarvi la storia di questa strana avventura capitata a babbo natale a dopo eccoci qui ragazzi andiamo a vedere questa disavventura del nostro babbo natale nel frattempo abbiamo completato la costruzione e aggiunto la slitta ecco il motivo di tutto ciò babbo natale per ammirare l'albero di mario dedo ha perso il controllo della sua slitta e si è schiantato contro questa montagna di ghiaccio ma tranquilli ragazzi babbo natale con la sua magia riuscirà a liberarsi e a consegnare i regali in tempo per la sera del 24 dicembre a proposito di regali naturalmente questo piccolo scherzetto non significa niente non è che adesso mi scrivi nella lista dei cattivi era solo uno scherzetto quindi non ti dimenticare la mia lista tutti quei regali che ho scritto tra le varie cose vi ricordo che c'erano anche i 500 like per questo video quindi babbo natale non dimenticarti ok ragazzi io vi saluto per questo episodio il mio albero lo trovate sempre sul mio canale ne approfitto per augurarvi un buon natale e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti Grazie a tutti.